I risultati dei sequenziamenti arrivati in questi ultimi due giorni ci dicono che ormai la variante Omicron ha preso il sopravvento sulla Delta, ma gli ospedalizzati rimangono sempre quelli colpiti da Delta. Qual è la situazione attuale adesso, Professor Stupia? Allora, sul territorio in generale abbiamo avuto la conferma che abbiamo soltanto queste due varianti e che la Omicron è presente in più dell'80% dei casi, la Delta è meno del 20%. Se però noi andiamo a vedere i dati specifici dei ricoverati nei reparti più importanti, quindi rianimazione, pneumologia, lì Delta e Omicron sono ancora più o meno pari. Quindi significa, questo conferma da un lato che la Delta è più aggressiva, quindi la troviamo nei casi più gravi. Dall'altra però che anche l'Omicron non scherza, quindi non è vero che Omicron è semplicemente un raffreddore perché in alcuni casi Omicron può anche portare a delle complicanze importanti. In altre parole non si può abbassare la guardia adesso? Non si deve abbassare la guardia perché abbiamo un numero di casi positivi enorme che non abbiamo mai avuto nella storia della pandemia. Quindi se anche la percentuale dei casi che poi stanno male è molto più bassa rispetto alle varianti precedenti, la numerosità globale è talmente alta che noi comunque continuiamo a avere più di 300 morti al giorno. Quindi è vero che forse vediamo la luce in fondo al tunnel, ma proprio questo è il momento di stare con la massima prudenza. Il virus accumula mutazioni nelle persone che sono infette, quindi una popolazione non vaccinata è una popolazione a rischio di accumulo di mutazioni, per cui le varianti si generano lì. Quindi diciamo che laddove ci sono meno vaccinati c'è più possibilità che si generano nuove varianti. Ora la speranza è che siccome Omicron è già una variante che ha una capacità infettiva spaventosa, sia difficile migliorarla dal punto di vista del virus, cioè sia difficile creare una nuova variante che sia ancora più infettiva e che la superi. Quindi per quello si spera che Omicron possa essere forse l'inizio della fine, perché probabilmente sarà difficile avere varianti più infettive. Sicuramente le popolazioni dove c'è molto addensamento, quindi molto scambio e pochi vaccinati, sono una situazione ideale per il virus per mutare. Ancora presto per parlare di fase endemica? No, è assolutamente presto. Vediamo, sì, la speranza che si vada verso quello, però ribadisco che con 300 morti al giorno io non posso esultare e dire siamo alla fine. Quando cominceranno a scendere i morti ne riparleremo.